Collagene marino è il brand di Optima Naturals dedicato alla bellezza in and out, integratori e cosmetici studiati e formulati per integrare e sostenere il collagene del nostro corpo. Il collagene è una proteina alla base di tutti i tessuti connettivi del nostro corpo, di cui la nostra pelle è costituita per il 75%. Una sua inevitabile progressiva diminuzione porta ai cosiddetti segni dell'invecchiamento, minor tonicità di pelle e muscoli e rigidità articolare. Collagene marino Drops è un siero viso ideato per attenuare la profondità e la visibilità delle rughe. Ha una texture leggera ma profondamente idratante che viene rapidamente assorbita dalla pelle. Questo siero è stato formulato per rimpolpare la pelle ed attenuare i segni del tempo che compaiono sul viso. L'esclusiva formula di questo siero è composta da collagene marino, aiuta a migliorare le condizioni dell'acute rallentando i processi di invecchiamento precoce e preservandola dai danni fotoindutti. Complesso rimpolpante, aumenta localmente la dimensione degli adipociti per riempire la pelle dall'interno. Grazie al suo effetto volumizzante ripristina il volume della pelle e aiuta a diminuire i segni di espressione e del tempo che avanza. Sfere di acido ialuronico e glucomannano rimpolpanti levigano le rughe e lasciano la pelle elastica ed idratata. Vitamina E possiede un'elevata attività antiossidante. Estratto di tè verde biologico ha una spiccata proprietà antiossidante che si traduce in un'azione antiaging. Possiede inoltre proprietà dermopurificanti e stringenti utili nel trattamento di pelli impure. L'aloe vera certificata biologica presente nella formula al posto dell'acqua caratterizza questo siero di Optima Neturas ed è in grado di veicolare meglio i principi attivi all'interno del derma. Collagene marino Drops siero rimpolpa e leviga la pelle. Riduce visibilmente le rughe e i segni di espressione. Dona alla pelle un aspetto più bene fresco, è dermatologicamente testato e certificato bio-ecocosmesi da IAB. Applicare quotidianamente il siero su viso, collo e décolleté massaggiando con movimenti circolari fino a completo assorbimento del prodotto.